Quindi salve a tutti ragazzi, bentornati su Beyond Gamers Oggi iniziamo il DRC, ma prima devo sbloccarlo Quindi vado subito E parto da, parto da, parto da Di qua, da dove parto? Comunque è morto Altare del sole Ora si va a sbloccare il DRC Quindi devo andare dalla parte di Avel E devo uccidere la Yamato L'hai Yamato, detta anche Hydra Dai, attacca, passami lì Ok, c'è il Dolem Che bella nella ramastra di lui Perché hai spusato il segno? Ok, acquisto oggetti Ma c'è il trofeo ora? Deve trovare lì, sì Trofeo lì Ma il pendente ti dà appena arrivati Il pendente è rotto Entro, Nicolas nel DRC Tra 3, 2, 1 Uno Intanto ci fa una cosa tattica Di questo genere Siccome ho le umanità che abbondano C'è gender farò E si farà viva la fiamma No, sono equipaggiate Eh, cazzo In nome dei vecchi tempi Di quando giocavo Agralo, agralo Sono io nel menu io In nome dei vecchi tempi Alla barda di cristallo più 5 Non mi ricordo neanche Muset Sì, traiamo una coda Sì, traiamo una coda Non mi ricordo neanche Muset però Mi ricordo solo che aveva un bel R2 A due mani Sta fermo Bravo Bravo Uuuuuh Uuuuh Ops Non, sono mai Neanche l'anno mi ha fatto un guadattato Sì, io lo ho tentato con un lupo No, tu qua viene in assoluto Non interessa nello shortcut, non interessa nello shortcut, cos'è quella roba? Perché questa roccia è così colorata rispetto alle altre? Boh vabbè, schifo il gioco Eh perchè praticamente... Si, sono confidente nelle mie capacità e nella mia armatura, quindi qua c'è il campo di zucche Non sono zucche però Lo so che non sono zucche, però a primo impatto così, sembra un campo di zucche Calameto Non si può niente colpire Ma Calamit Bravo Nicolas, bravissimo! Ah no Pensavo fosse il cotto del burrone all'inizio, sai Siamo arrivati, non è niente Siamo arrivati per lo Perchè no? Nooo, non muore come passe Non sono lì No, gli altri non gli ho detto Oh, è venuto a bloccare No, non so mica il passe e io No No, aspetta Ok Il pastro è sulla d'artorias Tu usci l'ho minato in uno Bello lui, cos'è che ha? Bello Se non vai in verso, colpiamolo Arrivo passe Sì Sì Sei il flaggello della miscia, sei Eh, se no Possiva Sì Ahia, meglio pularcela Davanti a lui Fani i parry Eh no, no No, fai il no Mi sei trasportato davanti come furocco Ce l'ho fatta Dov'è Ciaran? Dov'è Ciaran? Dov'è Ciaran? Dov'è Ciaran? Eh compare da otto E quindi ragazzi Artorias è deceduto Nel prossimo episodio Andremo a uccidere Manus E poi mancherà solo Gwyn Ci vediamo a brevissimo Sempre qui Su Beyond Prunier